Cosa cambierà per i 120 lavoratori impiegati nell'azienda che gestisce il servizio mensa nel comune di Pescara in vista del raddoppio del prezzo di buoni pasto? L'annuncio, fatto nei giorni scorsi dal centro-sinistra cittadino, ha innescato una spirale, due conti alla mano. Mangiare a scuola costerà troppo, si passa dai 3,71 euro a 6,24 euro e la fascia reddituale interessata è abbastanza ampia, visto che si fa riferimento a un ISEE superiore ai 12.000 euro. Non è difficile pensare alle conseguenze inevitabili, saranno tantissimi genitori che opteranno per la scelta più economica, cioè quella di rinunciare alla mensa scolastica con tutte le problematiche logistiche legate al lavoro di mamma e papà. E a proposito di lavoro, la Filcams CGL e la Wiltux Abruzzo lanciano un allarme che finora è rimasto in sordina. I 120 lavoratori part-time involontari, come vengono definiti nel comunicato dei sindacati, rischiano di subire un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro e di conseguenza dei loro redditi, molti dei quali già al di sotto della soglia di povertà. Tutto questo è inaccettabile per i sindacati che chiedono intanto garanzie idonee a evitare possibili tagli alle ore del personale. L'alternativa è la mobilitazione con l'obiettivo di dare voce a chi cerca di sopravvivere lavorando nell'ambito di questo appalto. Sulle responsabilità, il centro-sinistra rimarca ancora una volta che di fatto il Comune di Pescara ha eliminato la quota di contribuzione che avrebbe permesso la riduzione della tariffa per le famiglie. Ora si attende settembre. Certo è che il caromenza sarà la prima patata bollente del nuovo anno scolastico.